Virus Television, approfondimento scientifico sul tormentone coreano Gangnam Style. Selezioniamo per voi le migliori parodie e amenità legate alla suddetta canzone. Si parte così. Versione Est-Europeo, Serba. Serbian Style. Bad English, but we like to swear a lot. I'm Mario, been kicking us since 81. Versione Nintendo, Mario Bros. La mia preferita, Chebecka Style. Dall'Italia, Gargamella Style e i Puffi. Sempre in Italia, Antonella Clerici. La Borra. La Borra. Versione l'arancia con la bocca. Gnan Gnan Style. Versione Natalizia, Santa Style. Con Santa Claus. Con Gandalf, il Signore degli Anelli, Gandalf Style. Questo è lo spot di uno strip club americano, non so altro. Afghan Style. Direttamente dall'Afghanistan. Napoli. Napoli. Napoli Style. Versione Vegan. Vegan Style. Hitler Style. E via. Versione ebraica, Jewish Style. Giù, 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 giù. This is Jewish Style. Versione ganese. Gana Style. Open Gotham Style. Gotham City. Batman e Catwoman. And Gotham Style. Harry Potter. È una possibile eliazonna omosessuale con il cattivo. Versione geriatrica. Grandma Style. Di questa parodia, invece, si ipotizza che gli uomini maschi che collezionano Little Pony abbiano un problema evidente, che è questo. Chiudiamo acustici. Versione Senior. versione teenager, asiatica. Versione a cappella. Virus Style, per Gangnam Style. Alla prossima. Olè! Virus Television, approfondimento scientifico sui migliori video di YouTube, questa settimana si occupa di... Sol Rece! I'm just a poor boy, nobody loves me.